persone, stavolta due presentatori e un intervistato, ma vista l'eccezionalità della situazione mi sembra più che dovuto. Si sente? Sì, sì, abbiamo provato tutto il giorno. Cuccini sente là in fondo? Grazie. Mettiamo anche il simpatico espositore, così dispone. Ecco, siamo qui per parlare con Leo Ortolani e Luca Raffaelli di Cinzia, qualcosa che agli appassionati di Redman sicuramente dice qualcosa e credo che qui la maggior parte siano tali, però è anche qualcosa di molto diverso, tutto sommato, da quello che hai fatto fino ad ora. Come ti è venuta l'idea di fare questo spin-off che poi è un graphic novel a sé stante sostanzialmente? Ma guarda, è come in Monty Python, è adesso qualcosa di completamente diverso. No, avendo fatto sempre storie in cui Cinzia, chi non la conosce Cinzia è una donna, faccio una pausa, ma non è storia, no, perché è così, insomma, ha solo questi 30 centimetri in più, però, cioè, non per questo bisogna pensare, no, sarebbe definita una transessuale, definizione che, boh, alla fine, non lo so, ma ne parleremo dopo, cioè, io lascerei sempre un po' da parte definire le persone a seconda di alto, basso, magro, grasso, cioè, sono persone. Vabbè, fatto sta che Cinzia è comparsa nella serie a fumetti di Ratman per 20 anni come sua spalla comica, del resto Ratman è un fumetto comico, è nata quasi insieme a lui, anzi, è nata insieme a lui, perché è nata come una gag anche abbastanza di bassa lega, insomma, dove Ratman riceve da questo postino un fumetto che gli scatena il desiderio di diventare appunto Ratman e così, nell'impeto di gratitudine, dà un bel bacio al postino e il quale scopre di essere dentro di sé Cinzia diventa la lucciola della quinta strada, ecco, da lì nasce questo personaggio, poi dopo sono passati 20 anni e in questi 20 anni non cresce soltanto Ratman, cresce Cinzia, cresco io soprattutto e cresce quindi la figura di questo personaggio che, insomma, sì, è vera, è una spalla comica, ma non sempre e quindi si comincia ad affrontare delle storie in cui tu parli di una donna innamorata di un uomo, in questo caso, Ratman, ma che non ha nessuna speranza, perché a Ratman, insomma, non interessa, ecco. E quindi a tanti di noi sarà capitato di avere qualche cosa che non riusciamo assolutamente a ottenere nonostante tutto il nostro impegno, nonostante tutto la nostra buona volontà. Per questo che Cinzia, secondo me, diventa un po' una sorta di metafora di questa impossibilità a volte per l'uomo di raggiungere degli obiettivi che si prefigge, ma che gli vengono negati perché, non so, ci sono delle difficoltà insite nella propria natura, insomma. E a questo punto, insomma, da questa serie di Ratman ha deciso di tirar fuori questo personaggio e di renderlo protagonista di una storia sua. Cioè, quindi, dove si racconta una storia di questa donna, e forse non dovete anche dire donna, di questa persona, ed è assolutamente slegata da tutto quello che avete detto prima. Quindi non c'entra più Ratman, non ci sono altri riferimenti a lui. L'unica concessione che le ho fatte è portare insieme a lei in questa avventura la sua migliore amica, Tamara, che è transessuale anche lei, che in questo caso diventa la spalla comica di Cinzia, però per il resto si racconta una storia, se vogliamo, abbastanza banale come premesse, cioè Cinzia che si innamora di un ragazzo e fa di tutto, ovviamente, per cercare di portare in porto questa avventura. Basta, cioè, potete leggerlo, ripeto, senza conoscere niente della serie di Ratman ed è assolutamente autoconclusiva. Sembra che sia bella. Sembra, però non mi voglio... Io confermo, devo dire che secondo me è veramente, non so come dire, è qualcosa di diverso in tutti i sensi, nel senso che, appunto, può leggerla chiunque non abbia mai letto niente di Ratman, ha un senso di per sé, non ci sono... ma la cosa veramente interessante è che, secondo me, ci si diverte tantissimo, naturalmente, perché sennò non sarebbe Leo Ortolani, però ci sono tantissime cose importanti dentro questa storia. Spunti di riflessione. Spunti di riflessione. Ma cosa veramente a cui uno non pensa? Perché effettivamente, nell'immaginario delle persone eterosessuali, che non si sono mai dovute confrontare con una serie di problemi, cioè, uno pensa al trans necessariamente in un certo ruolo, no? E non è detto, cioè, la cosa molto bella, secondo me, del racconto è che Cinzia cerca lavoro. Sì. E in questo, appunto, cioè... E questa cosa qua non è semplice, come potreste credere, perché quando una persona che non ha compiuto ancora il cosiddetto percorso di trasformazione, e anche lì ci sono dei problemi, perché adesso, per chiedere, credo in Italia, adesso non sono negli altri paesi, negli altri paesi forse no, però in Italia, per chiedere di cambiare il nome sulla vostra carità, se voi vi chiamate Mario e volete invece essere chiamati giustamente Donatella, dovete fare un percorso che finisce con la trasformazione fisica. Questa cosa qua, però, non deve essere naturale per tutti, cioè c'è chi complete il percorso e c'è chi no, come vi ricorderete Eva Robbins, faccio per dire, no? Per cui viene vista anche questa come un'imposizione da chi gestisce, diciamo così, i diritti di queste persone, per cui non è semplicissimo, ecco. Il fatto sta che se voi andate a cercare lavoro, vi presentate come Donatella e poi dai documenti risultate chiamarvi Marco, è difficile che vi diano un lavoro, a meno che non siano delle persone particolarmente illuminate, ecco. Io sono partito da questa piccola cosa qua, di cui avevo già sentito parlare molto spesso, e ho costruito poi tutto il resto della storia. Sì, mi viene in mente quello che è successo a Braccio di Ferro, no? Che è entrato in scena per caso nel fumetto di Sigar e poi centinaia di migliaia di lettori hanno inviato le lettere e Braccio di Ferro è diventato il protagonista delle strisce di Castor Oil. Cinzia ci ha messo vent'anni. Ma che forte, però ricordato come l'autore di Cinzia. Verrei ricordato come l'autore di Cinzia. La prima cosa che ti voglio chiedere è se davvero è completamente diverso fare un fumetto del genere, cioè il primo graphic novel di Leo Ortolani. Va bene, d'accordo, perché è un libro, perché non è Ratman, però in effetti è esattamente come le altre tue produzioni, nel senso che... Sì, qua c'è la copertina rigida. Qui c'è la copertina rigida e anche la scansione delle, come dire, delle battute all'interno della storia è esattamente come nelle tue storie tradizionali. Qualcosa di assolutamente diverso, ma è esattamente lei Ortolani. Questo anche per tranquillizzarvi. Dunque, la cosa particolare poi è che il personaggio un po' viene vissuto nella maniera umana e profonda con cui la stai descrivendo, ma un po' anche come macchietta, esattamente come viene preso in giro Ratman, perché non è un vero supereroe, viene un po' preso in giro anche lei. Sì, beh, si tiene sempre un tono leggero volutamente, anche perché a piangere si fa sempre in tempo, ecco, per cui non pensiate che sia un libro dove alla fine... No, totalmente no. Anzi, ho cercato di mantenere quella leggerezza tipica di un telefilm che forse qualcuno conosce, che è Willie Grace, non so se qualcuno lo conosce, che per me è un capolavoro di scrittura e lì si parla di tematiche gay, perché il protagonista Will e Jack sono gay, Grace non lo è, ma diciamo così che c'è tutta una serie di riferimenti in cui, se vuoi, si gioca anche sullo stereotipo. Loro stessi ci giocano molto, ecco. E quindi ho cercato di trasmettere la stessa leggerezza anche in questo libro qua. Ecco, e siccome si gioca sullo stereotipo tu avevi paura di non superare un esame che invece ci puoi annunciare è stato superato. Sì, cioè questo libro qua, allora, c'è stata una richiesta di presentazione presso una libreria di Bologna, una libreria legata al circuito L-G-B-T-I-Q e aggiungo S-W e poi scoprirete perché. E noi siamo detti disponibili, BAU Publishing, e io siamo detti assolutamente disponibili a presentarlo, e però il MIT, che come dicevamo prima non è il Massachusetts Institute of Technology, ma è il movimento identitratrans, ha chiesto di leggerlo in anteprima per vedere di cosa si trattasse. E quindi per alcuni giorni ero sotto esame. Insomma, un po' preoccupato, sì. E poi invece è arrivata, Daniela mi ha scritto, fa che è arrivata la notizia, che è piaciuto, e quindi siamo invitati, caldamente invitati ad andare a Bologna. Sarà una trappola. No, quando Luca ha detto questa cosa, tra l'altro ho pensato che si riferisse all'esame di Cinzi. C'è un esame che deve fare. No, vabbè, comunque, no, scherzi a parte, per me è una cosa molto importante. Vuol dire che il libro non è un libro di bassa lega, ecco. Cioè vuol dire ci saranno sempre dentro, ci sono sempre dentro delle battute a volte, come quelle che avete letto in Ratman, per carità. Però, insomma, si racconta una storia in una maniera un po' più approfondita, non so. Forse ci si concentra un po' di più su questo personaggio, che magari è venuto fuori in maniera, in questa maniera, solo poche volte nella serie di Ratman. Forse perché in fondo, diciamo la verità, Cinzia è più normale di Ratman. Senz'altro. Se dovessi fare una gara di normalità, sì, Cinzia la vince. La vince. Anche perché io amo sempre dire che quando io parlo di Cinzia, molti lettori pensano subito alla lunghezza del membro, mentre io penso invece alla sua gioia di vivere, che è completamente un altro piano di considerare questo personaggio. Perché lei comunque sia, nonostante abbia tutto contro e tutti contro, in qualche maniera ce la fa. È un rambo della transessualità. Transrambo. Ma non temi la protesta delle lesbiche vegane? Moltissimo. Adesso questa è una cosa che troverete nel libro. Anche perché la cosa che mi sono divertito a fare è mettere un attimino in discussione i cosiddetti recinti che ci creiamo nella vita, no? Cioè, noi etero da una parte, voi gay, lesbiche e trans da un'altra, ma loro stessi che fanno recinto, che io capisco che sia stata una necessità per poter combattere e far valere i loro diritti. Però ci deve essere un momento in cui questi recinti devono essere tolti, insomma, per forza di cose. Perché non si debba più identificare una persona con la propria natura o la propria sessualità, ma per il fatto di essere una persona. Quindi, non lo so, ecco, questo è un argomento che a me premeva molto, anche perché io sono molto ingenuo per certe cose. Cioè, nel senso, a me, di come uno viva la propria sessualità, non me ne è mai fregato niente. Ma, cioè, in senso buono, eh, intendiamoci, non del tipo, fate quello che ne avete voglia. Cioè, non era quello con cui io mi mettevo in relazione con le persone che incontravo. Tanto più che c'è stata questa cosa tantissimi anni fa di questo mio amico che mi fa, dopo anni di conoscenza, fa, ma ti sarei sconto che io sono gay? No? Ma, a parte che no, perché veramente non ci azzecco mai. Però, no, anche perché non me ne... cioè, gli ho scritto, guarda, è che non me ne frega niente, ma in senso buono. Cioè, nel senso che a me interessa che tu sia tu e io sia io. Cioè, abbiamo la nostra amicizia, punto, basta. Cioè, qual è? Non vedo problema. Quindi, lui ha fatto un po' questo coming out con me, forse per... perché vedeva che era veramente un ingenuone che girava in questo mondo di sessualità. Ah, cavoli! E questi cosa sono? Cioè, così... Quindi, insomma, è un po'... E allora, ecco, forse anche questo atteggiamento di assoluta... boh... non so come dire... un'ingenuità buona, non so se esiste un'ingenuità buona, forse no, però di assoluta tolleranza, possiamo definirla così, non so. Io sono un fan di Star Trek, per cui per me ci deve essere... ci deve essere Starfleet, l'unione dei pianeti, cioè non ci deve essere più i confini e più i confini vanno giù e più andiamo verso Starfleet e più ho la possibilità di andare sull'Enterprise. per cui è un... è un percorso il mio. Però avevi paura ogni tanto di cadere nel politically incorrect? Guarda, magari riuscissi a trovare sempre del... del politically incorrect da spostare questi... Perché mi hai cambiato il... l'accento? Che ho detto? Ancora. Ancora? Vabbè, sì, non so l'inglese, ragazzi. Del politicamente scorretto, eh? E... perché sì, perché comunque sia il politicamente corretto è una... una specie di trappolone in cui si cade dentro per cercare di non fare del male a nessuno, fai peggio. Cioè, mi ricordo ancora di questo... di questa persona che conosco che diceva, guarda, eh... sua sedia a rotelle, chiamatemi disabile, chiamatemi handicappare, chiamate... chiamate stronzo, ma fatemi le pedane. Per cui, cioè, si sposta l'attenzione sulla parola che, attenzione, come dice già la Bibbia, il vostro parlare sia sì, sì, no, no, il resto è del diavolo. Ed è vero, cioè, perché con le parole potete costruire qualunque cosa, ma la realtà dei fatti è come voi vi comportate nei confronti del mondo, delle persone e basta. Tutto qua. Questo era per la citazione biblica, lo so. No, come dice Luca, la materia era complicata. Cioè, oggi viviamo in un periodo in cui veramente basta pochissimo per essere tacciati di qualsiasi cosa. E questo tipo di materia è una materia complessa da trattare, no? Perché ci sono mille suscettibilità. Devo dire che, secondo me, il rischio per non, come dire, far arrabbiare nessuno di fare una cosa politicamente corretta che poi non è incisiva, non interessa a nessuno e non sarebbe poi neanche una cosa tua. Il fatto di aver mantenuto la cifra stilistica è invece garanzia del fatto che questo graphic novel funzioni. Però, secondo me, effettivamente, ci sono delle cose, al contrario di quello che diceva Luca, secondo me ci sono delle cose un po' diverse rispetto alla tua produzione storica di Ratman, eccetera, eccetera. Ho l'impressione davvero che questo libro possa avere la possibilità di essere preso molto seriamente, molto seriamente perché in maniera lieve, leggera, divertente, tratta un tema estremamente complesso, estremamente attuale ed estremamente sensibile perché, insomma, non dimentichiamoci che in questo momento noi viviamo a Roma, mio Luca, è una città in cui gli omosessuali sono, per esempio, sotto attacco, spesso e volentieri si leggono sul giornale vicende di persone che vengono picchiate perché si baciavano in pubblico, perché si tenevano per mano, eccetera, eccetera, eccetera. Io penso che un'opera di questo tipo serva moltissimo, molto di più di qualsiasi proclama perché in questo modo, in questa maniera riesce ad arrivare a un pubblico molto ampio, a un pubblico magari a cui di queste tematiche, appunto, pubblico eterosessuale non ha mai pensato a questo, invece si ritrova per l'appunto a riflettere. E la chiave di volta, per tornare a quello che dicevamo prima, è proprio il contesto della normalità, il fatto che uno ricerca lavoro, Cinzia lo troverà, un lavoro, un lavoro totalmente delirante, ovviamente questa fa parte del… Sì, sì, non raccontiamo questi colpici. No, va bene, no, per carità, niente spoiler, però un minimo va detto per attizzare la curiosità. Quindi non lo so, insomma, secondo me il fatto di aver rotto il politically correct è sacrosanto e il fatto che questo esame a cui si riferiva Luca sia stato passato significa che anche nel mondo, appunto, LGBT, eccetera, eccetera, si è compreso che ha molto più… cioè perché il bigottismo non è a senso unico, ci può essere anche un bigottismo LGBT, no? Sì, c'è un attimo da stare un po' all'occhio, sì, anche su quello. No, per questo mi riferivo alla battuta sulle lesbiche vegane, eccetera, eccetera, perché anche lì, cioè, ci sono mille frazioni pronte a litigare l'una con l'altra. A Bologna c'è stata anche una clamorosa secessione, se non sbaglio proprio al Casser, eccetera, in cui le donne si sono staccate dal movimento maschile, insomma, c'è stata proprio tutta una lunga discussione che non so bene come sia finita, però ecco… Andrò a risanarla. Ecco, no, dicevi, farai un tour, appunto, nelle librerie. Farò un tour, sì, nelle librerie Feltrinelli, questa è la prima libreria, questa, oltre ad andare alle librerie Feltrinelli di Bologna, poi tornerò, appunto, in questa libreria, si chiama Libreria Igor, se non ricordo male, e mi auguro che poi ci siano altre occasioni, ecco, per andare magari a portare questo libro anche nei centri, nei movimenti LGBT, I, Q, S, W. No, io sono assolutamente d'accordo con te, è qualche cosa… io mi riferivo allo stile, proprio, allo stile… Guarda, lo stile… Nel senso che uno dice fumetto seriale, graphic novel, no, come due cose diverse, dal punto di vista dello stile, la divisione delle vignette, le gabbie, insomma, ecco… Infatti in questo libro qua, a differenza di quello sullo spazio, che avevo a disposizione dei documentari per inframmezzare la storia, quindi per suddividerla un po' come se avessi fatto una serie, una miniserie sullo spazio, questo qua era un'opera unica, e mi sono trovato per la prima volta a dover gestire le chiuse delle scene, come in un film, insomma, per cercare di attaccare quella dopo e contemporaneamente non dare l'impressione che qua finisce un albo e ne inizia un altro, che troverai in edicola tra due… Sì, ci ho lavorato un po' di più proprio per cercare di amalgamarla in una storia unica. È ovvio che poi vive ovviamente come un libro, un libro scritto, diciamo così, di capitoli, però sì, in effetti c'è stato un passaggio ulteriore a livello stilistico per cercare di unire questi capitoli in maniera che sembrasse un unico film, quello sì. Per quanto riguarda l'ansia della scadenza, che differenza c'è tra un graphic novel e Rathman? Sei stato più tranquillo, l'hai realizzato con più… Guarda, io dico sempre, disegnare, realizzare un libro e disegnare un libro sulla transessualità è stata una passeggiata rispetto alla Stazione Spaziale Internazionale, quindi… e allora la crasi sarebbe mandiamo sulla Stazione Spaziale Internazionale dei transessuali in maniera da riuscire a ottenere poi il libro perfetto e mandare anche un messaggio all'umanità. Anche agli extraterrestri. Anche agli alieni. Ragazzi, venite pure, se osate. Vabbè, cosa volevo dire? E niente, per cui sì, la lavorazione è comunque stata, ripeto, molto più semplice anche perché il teatrino della commedia e dei drammi umani ha uno scenario, ha i protagonisti e non ha… Quello dello spazio aveva tanta di quella roba tecnica e tecnologica da disegnare che è stato un delirio, questo no, questo grazie a Dio, tra l'altro la storia era come se fosse già lì che aspettasse di uscire perché era iniziato tutto con questa gag tra me e Alicia Truisi a un incontro a Modena di diversi anni fa dove Alicia fa «Ma sai che a me e a Giuliano che è suo marito fa «Ci piacerebbe tanto leggere una bella graphic novel su Cinzia?» Sì, però sai, dovrei informarmi, venite con me. E quindi gag dopo gag e poi su Twitter ci rilanciavamo «Questo potrebbe essere un titolo per il libro su Cinzia?» Alla fine poi è arrivato dei chiedi Foschini e ha detto «Senti, allora facciamo questo libro su Cinzia?» Facciamola, anche perché il seme una volta piantato nella testa di un autore purtroppo cosa fa? Germoglia, cioè io di solito non voglio mai parlare di lavori da fare, di proposte così perché so che poi alla fine comincio a pensarci, cioè magari sto lavorando a tutt'altro, uno mi telefona «Guarda vorrei fare una cosa su…» Sì, e intanto comincia a germogliare perché qui non riesco più a concentrarmi su quello che faccio e mi viene da lavorare su quell'altro lavoro appena accennato. Facciamo conto che Cinzia ha avuto anni di tempo per crescere, per dare frutti e alla fine quando l'ho scritto è venuto giù abbastanza facilmente, l'ho disegnato in maniera relativamente tranquilla e una volta finito il libro ho vissuto quattro giorni di angoscia perché ho detto «E se l'ho sbagliato?» Perché se andate a vedere magari quando posto cose su Cinzia, su Facebook, su Instagram e guardate sotto i commenti, è la sagra della battuta crassa. Va bene, ci sta, l'ho fatta anch'io, magari in maniera diversa, però insomma, e quindi mi è venuto il dubbio che avessi fatto un libro che potesse non essere così, recepito dai miei lettori, perché magari abituati a vedere una Cinzia su Ratman in maniera diversa insomma, no? E quindi per quattro giorni è trattabile. Scusa, chi sono i tuoi lettori che leggono, immagino, la Cate? Allora, la Cate ha letto, ha potuto leggere questa storia. La Cate è la signora Ortolani. L'ho potuto leggere, però dopo lì c'è addirittura, perché eravamo andati via all'estero per fine estate e quindi non avevamo fatto in tempo, avevo faldone di fogli così e tollerizziamo dopo. Ma io pensavo a quelli che conosco Ratman, che magari si aspettano che Cinzia faccia la battuta e qui… va bene, insomma, avete già capito, magari sono dei bambini che hai capito meglio di voi, però volevo che… non so cosa volessi, il fatto sta che alla fine ho vissuto quattro giorni in montagna, per fortuna, per cui ero già un uomo di montagna, sgruso e tutto, ci sta, ecco, se fossi stato al mare in quella maniera lì non ci stava già più. Poi è successo un paio di cose che mi hanno fatto passare oltre. La prima è che in montagna c'è questo mio amico, si chiama Pietro Fornari, lui è un poeta, così ha come passione, poi non fa il poeta di mestiere ovviamente. Dico ovviamente perché purtroppo con la poesia conosco anche altri poeti, non ci vivono, ecco. Tra me e lui c'è questo fatto di trovarci in questo paese a mille metri di quota ed essere gli unici che riescono a parlare di determinati argomenti senza che non siano il fatto che ha fatto funghi oppure che la vacca del tipo è morta, che i cavalli sono scappati, che la volpa ha mangiato le galline, insomma. E quindi riusciate a parlare di qualcos'altro. E quando gli ho raccontato queste cose già lui mi ha detto fa ma guarda che tu, forse senza saperlo, hai fatto un piccolo atto di coraggio, cioè sei andato a cercare altri lettori, cioè sei uscito da quel cerchio lì, hai fatto, vedrai che forse non sarà tutto, lui non l'ha letto il libro ancora, però insomma aveva questa fiducia. Ha capito però. Ha capito esatto di cosa stessi parlando. E poi il secondo fatto è che su Instagram ti seguono tante persone, a un certo punto c'è questa che mi segue con cui commenta le foto, io rispondo così, mi cade l'occhio sul nickname, non lo dico ovviamente per motivi di privacy, che è un po' particolare. Vedo la foto, una ragazza, insomma. Vado a vedere nel suo profilo, insomma, a vedere le foto così, vedi? Una ragazza normalissima col suo ragazzo, così. Fino a una foto in cui parla di pomodadamo. Modadamo. E tu dici, ah, e poi la cosa più bella che tu vedi nella foto, che ha dei vestiti che sono gli stessi che ho messo a Cinzia. Cioè, per fare una cosa un po' fashion, gli ho messo dei vestiti di un certo tipo, così adesso lo vedrete quando leggerete. E vedo delle foto dove ha lo stesso stile. E quindi ho detto, ma allora è fatta. Allora ho raccontato veramente una storia vera. E' una cosa stranissima, perché è successa proprio in quei giorni lì. Non è successa prima, non è successa mesi dopo, è successa in quei giorni lì. Per cui alla fine ho detto, dai. Un segno del destino che ti ha tranquillizzato. Un trans destino che si è compiuto. Hai coinvolto anche la religione in qualche modo? Sì, no, perché c'era ovviamente questa cosa, la possiamo dire una cosa piccolina. La prima, se vogliamo, la prima discriminazione a livello di orientamento sessuale viene da Noè, che deve salvare le coppie, maschio e femmina. E Cinzia che cerca di imbarcarsi sull'arca. Per cui è una sorta di, è una gag se vuoi surreale, che avrà una sua conclusione anche di un certo tipo. Perché Dio deve cancellare il peccato dalla terra e quindi solo quelli che decide Noè, maschio e femmina. E vabbè, non vi dico altro. Mentre riescono a salire gli SW. Esatto, mentre riescono a salire, esatto. Insomma, quella che lì lascia. Insomma, e per cui sì, c'è anche un po' questa... Ce l'ho messo un po' tutte, come direbbe mia moglie. Ce le messe proprio tutte. Però lo possiamo dire che quando tu prendi in giro le Sacre Scritture lo fai peraltro da credente. Quindi con una preoccupazione in più o con una preoccupazione in meno? No, in meno. Da quando ho letto degli Annunaki non sono più così... Da quando hai letto, scusa? Gli Annunaki sarebbero quegli esseri che hanno dato molto... Adesso parte un pippone scientifico, pseudo-scientifico che non fissi... Forse ti dà a qualcuno una spiegazione. Sì, allora, c'è questa cosa qua. Ma la trovate in internet. Vedete, c'è un video su video, no? Per cui l'evoluzione umana ha un anello mancante. Questo lo sapete tutti. Però non... La cosa buffa è che l'evoluzione umana aveva fino a un certo punto questi omoni grossi, con le ossa, con la mascella, i classici troll. Poi nel giro di pochissimo, che poi questi troll arrivano a stare in piedi con una fatica disumana, cioè passano veramente centinaia di migliaia di anni, poi nel giro di 14, 15, 20 mila anni, arriva un modello di Armani, così, con lo scheletro leggero, la casta toracica, il mento in dentro. E a livello evolutivo la scienza non è ancora riuscita a spiegare come mai. Allora, c'è questa pseudo-teoria che parlerebbe di un intervento extraterrestre per cui questi annunachi avrebbero semplicemente inserito parte del loro DNA in questi scimmie. E da qui potrebbe venire fuori la cosiddetta creazione del mondo, cioè con il giardino dell'Eden sarebbe praticamente il laboratorio in cui sono stati eseguiti questi esperimenti. Adamo ed Eva sono semplicemente frutto degli esperimenti, perché questi annunachi, una volta sbarcati in giro sulla Terra, avevano bisogno anche di persone che eseguissero il loro ordine, che capissero il loro ordine. Per cui hanno detto, ce li creiamo, insomma. Tra l'altro non sono il primo, diciamo così, a parlare di queste cose. Lo stesso Kirby su questa mitologia ci ha lavorato nell'ultima fase della sua vita, insomma, per cui gli eterni che ritornano, questi sorti di... Ecco, per cui diciamo che, ecco, una volta che tu leggi gli annunachi, quando vai a messa c'è la prima scrittura, ragazzi, annunachi puri, eh. Cioè, sul Vangelo niente da dire. Ma le scritture ti raccontano veramente di una sorta di dominazione aliena in cui io sono il vostro Dio, diciamo, perché c'era una sorta di divisione, di popolazione, ognuno aveva il suo Dio. Tra l'altro si parla di Biglino, Mauro Biglino, l'avete sentito parlare. Sì, ecco, Mauro Biglino è un traduttore dall'ebraico della Bibbia. Ha lavorato per il Vaticano fino a che non l'ha buttato fuori, perché lui fa... E io ho scoperto che traducendo la Bibbia, pur con tutti i dubbi così, eh, ragazzi, noi abbiamo in caso una Bibbia che è una selezione scelta apposta, anche in maniera politica, ma se dovessimo tornare indietro con la vecchia scrittura, ti rendi conto che c'è Dio e c'è sua moglie, che spiegherebbe tante cose. E quindi, cioè, è come se Yahweh fosse il signorotto della zona in cui c'erano gli ebrei. Per cui, sono tantissime le cose. Perché quando tu leggi queste cose della prima scrittura, tu ce le rivedi precise. Cioè, ci sono le regole che vengono date, così almeno basate su regole di condotta, su regole di igiene, su regole di... più tantissime cose che, Mauro Biglino, se avete tempo, guardate i vostri... su YouTube sono i video che durano ore, insomma. Ma sono divertentissime. Purtroppo, ne ho visto uno ultimamente dove ci siamo giocati anche Biglino, perché probabilmente è andato troppo in là con le sue... Ha detto una cosa, se non mi ricordo bene, però in quel momento ho detto... Ok, grazie Mauro, passiamo adesso a un altro argomento. Tu sei un credente che va però alla ricerca del... Ma sì, abbiamo questa... C'è stato dato questo tempo sulla Terra, ma andiamo a cercare, perché restare fermi su delle convinzioni che magari... Poi dopo la fine, uno alla fine della sua vita dice... E se invece... Morto. Cioè, è troppo tardi, fatela adesso. Bene, bene. Non possiamo rivelare più di tanto, ovviamente, dicevamo, però quello che posso dire è che il volume è pieno di colpi di scena alla mo' di Leo Ortolani, per l'appunto. Il finale è bellissimo, non lo riveliamo naturalmente, però, come dire, io penso che il finale in particolar modo sia ciò che ti ha fatto passare l'esame LGBT ed intorni, perché quello che viene fuori è quello che secondo me è l'essenzialità della questione, una questione, ribadisco, attorno a cui tutto il mondo sta dibattendo, perché in questo momento di populismi trionfanti alcune cose che vengono messe in discussione del vecchio ordine stanno destabilizzando profondamente chi era abituato ad avere il comando. In America il WASP, il white, anglo-saxon, protestant, eccetera, eccetera, eccetera. Ribadisco che il politically correct, secondo me, non ci ha fatto un favore, perché l'eccesso di politically correct che viene dal mondo anglosassone ha portato poi a tutte queste idiozie di cui si viene accusati, bonismo, eccetera, eccetera, che sono diventate delle parole per dire che sei un radical chic quando non fai altro che sostenere magari delle cose. Cioè c'è differenza tra politically correct e, come dire, volontà di dire le cose nel modo giusto, insomma. E questo devo dire che tu secondo me hai saputo trovare la misura giusta per descriverlo. È un equilibrismo non semplice, insomma. Tipico di noi geologi. No, però, insomma, mi chiedevo se mentre lavoravi a questa cosa sei andato molto distinto, come immagino tu faccia, abbia fatto per anni su Atman, o ti sia invece trovato a pensare molto di più ai vari passaggi. Guarda, alla fine io ho raccontato la storia di una persona e su quel binario sono andato, senza farmi poi troppi problemi di gestire cose politicamente corrette o meno, insomma. Dando un punto di vista, magari forse mio, attraverso Cinzia, quello che poi passa e vive durante questa storia qua. Io il finale non l'ho voluto leggere, tanto non l'avremmo potuto raccontare, ma ha fatto bene Luca invece a rivelare che è molto bello. Però allora ti voglio chiedere se, come Ugo Pratt diceva, per raccontare una storia bisogna averlo fin dall'inizio, il finale. Cioè, se ce l'avevi già, c'era... Sì, 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 il finale era assolutamente... Poi capirete che è un finale particolare anche a livello grafico, in qualche modo. Quindi, sì, no, no, ce l'avevo assolutamente. La primissima cosa era quella, poi tutto il resto si inchioda a colpi di balune, di sceneggiatura, fino a che non sta fermo e finisce dove vuoi farlo finire. Il numero delle pagine era già... No. Il numero delle pagine, come al solito, ho detto, dai, speriamo di cavarcela con poco, visto che l'anno scorso ne ho fatte 240, dai, ne faccio magari 180 massimo. E quindi c'era Michele, giustamente, che doveva ordinare la carta, che mi chiedeva a intervalli di tempo, quante pagine sono? Guarda, a occhi e croce sono queste, 180 appunto, magari qualche pagine in più ci vorrà per le famose chiuse, i famosi passaggi da un capitolo all'altro. E poi mi sono accorto che lavorando come lavoro io, cioè per terra, con i fogli che spostano, per cui recuperano così, nel conteggio avevo poi spostato un gruppo di pagine in maniera tale che mi sono trovato con 20 pagine in più, che non avevo calcolato, e più le pagine di raccordo alla fine sono 230 qualcosa, adesso non mi ricordo, 228 pagine, insomma, e quindi giù di schiena sulla schivania e via, pagina dopo pagina, il Frodo Baggins del disegno. E l'hai concluso alla fine dell'estate scorsa. No, guarda, sono uscito a concludere il 10 agosto, in tempo per cruciarmi fino a ferragosto di averlo fatto male, rovinandomi così. Vivere male il ferragosto. Ma certo, perché vivere bene il ferragosto quando puoi rovinartelo? E per forza di cose dobbiamo chiedere dal ferragosto oggi che cosa hai fatto? Allora, dal ferragosto oggi ho inanellato una serie di fallimenti, no, ho fatto altre piccole cose, tra cui un fumetto di Comics and Science per la Scuola Normale Superiore, che non si può più dire di Pisa perché la sua sede ormai è già unita con l'Istituto di Letteratura o di Scienze Umane di Firenze, per cui insomma, e comincia ad espandersi. È una storia di 30 pagine che racconta cos'è la scuola normale, insomma, com'è nata, che cosa ci si fa, insomma, cose così. E poi ho fatto, aspetta, perché io poi mi scordo le cose completamente. Cosa ho fatto io? Ma prima di quello ho fatto un'altra cosa. Se vuoi parliamo di altro, intanto tu ci pensi. Sì, ma guarda che terribile. Vabbè, sarà un po', scusate. Forse chiederei anche al pubblico se ha qualche domanda, visto che è intervenuto così numeroso, è l'occasione giusta per chiedere qualcosa. Voglio sapere se per caso, intanto voi alzate la mano, se per caso in questi ultimi tempi avevi visto il film di Guzman Sant su John Callahan, che è il disegnatore satirico. Quello con Jacques Infini. Sì, esatto, che è rimasto paralizzato, che viveva su una sedia a rotelle e faceva queste vignette cattivissime. Dove ci sono questi cowboy che arrivano nel deserto, c'è una sedia a rotelle con le frecce, vuota, non sarà andato lontano. Sì, non preoccupatevi. E lui diceva appunto che dedicava tutte le sue vignette a tutti gli stronzi che cercano di difendere i disabili. No, no, no. Mi sono ricordato cosa ho fatto. Ho lavorato alle storie inedite per la ristampa, per Artman Gigante, per cui ho fatto queste storie, questa storia, che è una vecchissima parodia dei film tipo Rambo e Commando, che ho recuperato, riscritto e inserito poi in tre parti nel sì, nel Artman Gigante. Dovrebbe essere uscita la prima, forse già la seconda parte. E dopodiché, niente, è tutto un programmare le cose che arriveranno in futuro, tra cui, posso anche annunciarlo, magari, che tanto ci sarà un seguito al libro sullo spazio, perché l'Agenzia Spaziale mi ha lasciato stare per quest'anno, però è tornata a chiedermi di fare non uno, ma due libri. Abbiamo cinque minuti e poi l'astronave si distruggerà. e quindi, niente, ho avuto già questo primo contatto con Luca Parmitano, che è l'astronauta che andrà sulla stazione spaziale nel 2019, però non parleremo di stazione spaziale, parleremo di Luna, visto che nel 2019 sono 50 anni dallo sbarco sulla Luna, che ci crediate o non ci crediate, sono sempre 50 anni. questo bisogna che lo... Adesso, qualcuno conoscerà Marco Mazzucco, Mazzucco, sì. O forse ha visto Capricorn One. Capricorn One. O forse ha visto Capricorn One, esatto. Ecco, io adesso mi sto guardando perché mio cognato ha insistito ma guarda questo video di Mazzucco, sono tre ore, io sto ovviamente dilazionando, in cui c'è questo, si dice che non siamo andati, ma attenzione, e ve lo dico io, da uno che che è un po' tignino quando studia le cose, perché in questo video, a parte che io credo ovviamente alla cosa che ci siamo stati, come sulla Luna, ma quando loro usano dei fatti per dimostrare che non ci siamo andati, attenzione, fate molta attenzione, perché stanno manipolando lo stesso, la verità. Vi faccio un esempio banalissimo, si parla di rocce lunari, cioè di campioni lunari. Allora, i campioni lunari portati giù dalle missioni lunari, che sono state sei, non c'è stata solo la prima, si sono andati sulla Luna fino al 1972. L'ultima missione c'era un geologo, tra l'altro, se trovate tutte queste rocce, ne ha portate giù veramente due borsate, c'era l'offerta. Loro dicono, non può essere considerato una prova avere queste rocce lunari, perché anche le sonde le hanno riportate giù automaticamente. Cambiano poi discorso e parlano d'altro. No, perché le sonde hanno una tribellina spessa così, di un centimetro di diametro, quindi tribellavano e portavano giù solo pochi grammi di polvere. Ecco, quindi attenzione a, adesso io sto parlando di questo, però attenzione a chi cerca di vendervi la propria merce, perché se non studiate, non sapete cosa c'è dietro, che cosa effettivamente succede quando si portano giù, ad esempio in questo caso, dei campioni lunari, può darsi che voi crediate che effettivamente si possa fare e portare giù delle rocce così con una sonda da loro, ma non è possibile, per cui insomma, vabbè, anti-buffala. E poi sta uscendo adesso il film su Neil Armstrong, quindi sapremo la verità adesso. C'è una domanda per caso, perché il tempo sarebbe praticamente esaurito, se non c'è, mi sa che chiudere, ah, c'è, molto velocemente, con la K, hanno la K, con la K, rispondo già per mettermi avanti. Buongiorno a tutti, ciao Leo, allora, premetto, sì, una cosa per te, la domanda che voglio fare ora esula un po' da Cinzia quanto ho detto finora, e niente, premettendo appunto che seguo l'Atman, praticamente dalle autoproduzioni nelle varie fiere del fumetto, tutte, ho praticamente tutto quello che riguarda Ratman. Come mai questa scelta di voler pubblicare storie inedite sulle ristampe? Cioè, io non le compro, cioè nel senso... Come mai faccio storie inedite sulle ristampe di Ratman? Sì, esatto, perché mi avanzano delle pagine? Ma su serio? Il direttore marketing dice che la risposta è perfetta. Sì, le potremmo mai rivedere pubblicate magari in un volume a sé anche o in altro modo. Dunque, non ho capito molto perché c'è... Non si sente bene purtroppo. chiedo, tutte queste storie inedite che vengono pubblicate appunto sulle ristampe... che vengono ristampate in albi estivi. Non so se avete visto, quest'estate è uscito l'inconcepibile Ratman, per dire. Ecco, e questo conteneva le storie rare o pubblicate sopra il Ratman gigante. Ok, quindi anche tutte quelle che verranno avranno comunque modo di essere pubblicate in futuro o a parti. Esatto, quindi potete recuperarle senza prendere Ratman gigante. Perfetto. Però se lo prendete meglio... Se lo prendete ci fate anche una cortesia, insomma, ecco. Così. benissimo, direi che non abbiamo più tempo purtroppo, ma vi ringrazio moltissimo di essere venuti naturalmente. Credo che lei lo possiate rincontrare allo stand di Bao e vi lasciamo domani, vi lasciamo al prossimo appuntamento e vi ricordiamo che domani sempre qui in Sala Robinson ci saranno ben tre incontri tra cui quello finale con tutti i direttori delle varie case editrici di fumetti italiane. Scusa Luca, informazioni di servizio, l'uscita è da questa parte stavolta. Grazie. Grazie. ecco, grazie, perfetto. mentre no, falli già entrare. Sì, 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 certo. Allora, mentre intanto defluisce il pubblico ci apprestiamo a ricevere i nostri prossimi ospiti. Quest'altro incontro che viene a seguire è un incontro targato Sergio Monelli di Tore. Avremo ospiti Michele Masiero e Roberto Recchioni. Quindi ora stiamo facendo affluire le persone. chi vuole appunto rimanere, grazie. Sedetevi tutti così in modo che i prossimi che entrano trovano subito posto e aspettiamo i nostri ospiti che arrivano. Ecco, già uno intanto con calma si dispone. Grazie. intanto piano piano le persone che entrano si possono mettere a sedere così troviamo